Mi chiedo io, va bene, abbiamo vinto una gran partita a Santiago Bernabeu, abbiamo giocato benissimo, ma io ho visto Real Madrid impresentabile, devo dirlo, per me hanno fatto preparazione all'acqua fan di Riccione. Abbiamo vinto Madrid, abbiamo vinto con l'Inter, però del resto abbiamo fatto sempre cagare, quindi mi sto chiedendo, ma Real Madrid stava pascolando? Ma per cosa è andato a fare Madrid, il mio Teo, il mio Leao, che fanno una partita buona ogni 20, ma chi se ne frega, l'importante è arrivare a fine girone, forse qualificati, forse no, non lo so.